Bene, allora quindi, che cosa hanno voluto fare con le bestie di Satana? Senz'altro dare un colpo mortale alla musica metal. In più, questo mi viene confermato da tutti i dibattiti che ho letto a seguito delle bestie di Satana. Ci sono addirittura esorcisti che si sono sollevati contro la musica metal, ci sono dibattiti, studiosi, persone che si sono rifiutate di accogliere nella loro città, hanno protestato perché venivano cantanti che facevano questo tipo di musica, per carità, una musica inquietante, sì, questo è vero. I nomi di alcuni gruppi metal sono assolutamente evidenti, dei cide, quindi sono dei cidi, ci sono dei testi che inneggiano l'uccisione, mi ricordo un testo, adesso non ricordo di quale gruppo, uccidi il prete, sventralo, sì, alcuni testi sono innegabilmente satanici, ma non è quello il problema della società. Io sono convinto che il problema della società siano molti magistrati, molti avvocati, molti criminologi, molti politici, quello è il problema. Il cantante rock che inneggia il satanismo, casomai è l'effetto di tutto questo, ed è comunque l'ultimo dei problemi. Prima di Marilyn Manson, uno dei cantanti icona di questo metal satanico, prima di lui bisognerebbe occuparsi del satanismo dei politici, bisognerebbe occuparsi appunto dei rapporti tra Crowley e questi personaggi qua, bisognerebbe occuparci dei rapporti tra Bush, Clinton e Michael Aquino e il Tempio di Seth, bisognerebbe capire che cosa significa quello che hanno ammesso Bush e Clinton in campagna elettorale, ammesso esplicitamente che appartengono alla Skull & Bones. La Skull & Bones è una società segreta, ma non è una società segreta, è un ramo di un'organizzazione templare che comunque è vicina alla rosa rossa. L'hanno ammesso chiaramente, ma se la gente non sa che cos'è la rosa rossa, cosa sono i templari, quando questi dicono, sì, è vero, appartengo, gliel'hanno domandato in campagna elettorale, ripeto, trovate il video su YouTube in cui a tutte e due dicono, è vero che voi appartenete alla stessa società segreta? Sì, è vero, ma questo che comporta è un segreto, hanno risposto. Ma chi conosce le società segrete sa che cosa comporta questo. Comporta, sapete cosa, che ci sono due contendenti in gara per diventare Presidente degli Stati Uniti che fanno gli stessi interessi, che sono messi lì dalla stessa organizzazione e che faranno prima gli interessi dell'organizzazione e poi quelli del Paese e quindi perseguiranno la stessa politica e non sono l'uno contro l'altro. Non è uno meglio dell'altro, così come oggi Monti non è meglio di Berlusconi, anzi è peggio. Ma questo è un altro discorso. Allora, ripeto, torniamo alle bestie di Satana. Il primo obiettivo che si vuole perseguire è il colpo alla musica metal. Inoltre l'immagine, ancora una volta, si fa quello che si fa col processo Manson. I satanisti in Italia non ci sono. Se ci sono, sono dei gruppi di metallari con i capelli lunghi e che ascoltano Ozzy Osbourne, che ascoltano i Deicide, Deicide, come cavolo si chiamano, e quant'altro. Questi sono i satanisti in Italia. Non sono i colletti bianchi, non i magistrati. Tutti i bambini che scomparono in Italia li fanno scomparire le bestie di Satana, i metallari. Tutte quelle donne, la donna decapitata a Roma, trovata priva degli organi interni, quelli l'hanno sventrata le bestie di Satana a Roma. Melania Rea, arriva di Civitella, pare che Salvatore Parolisi fosse sia, sia tuttora un membro del Tempio di Set, ovviamente di Napoli, ma non c'entra niente il satanismo in questo caso. Il satanismo è, ripeto, un fenomeno dei metallari che seguono questo tipo di musica. Questo è il problema della società in cui viviamo, i metallari. Quindi deviare dal vero satanismo, da quello che significa, da quello che è. E poi c'è un'altra cosa molto più inquietante. Io mi sono detto, beh, ma qui non è sufficiente. Questo, distruggere il movimento metal, è una parte, è l'obiettivo pratico, però c'è un obiettivo esoterico, è un rito. Questo delle bestie di Satana, questi omicidi, sono un rito per propiziarsi qualcosa, dal momento che la dimensione europea, ho pensato, deve essere collegata all'Unione Europea. Mi sono messo a leggere gli atti, se c'è un collegamento con l'Unione Europea lo devo trovare negli atti. A un certo punto mi colpisce un particolare, negli atti che leggo. Dicono i due ragazzi, strafatti di droga, che non si ricordano un cazzo, però si ricordano cosa? Che la musica che ascoltava Nicola Savone quando andavano era la nonna di Beethoven. Io mi dico, no, questo particolare è falso. Perché? Perché questi ragazzi, uno era minorenne, strafatti di droga, si ricordano che ascoltava la nonna di Beethoven, lo riportano al processo, che non è un particolare importante, e sanno distinguere una nonna da un'ottava. No, da una settima, da quello che è. No. Peraltro, una coincidenza particolare. La nonna di Beethoven è la stessa musica che suonavano i drughi nel film Arancia Meccanica. Sapete quel film in cui c'erano questi ragazzi che andavano e uccidevano le persone a casaccio? Erano sostanzialmente, diciamo, le bestie di Satana. Quello che facevano le bestie di Satana. Anzi, i drughi erano un po' più buoni. I delitti delle bestie di Satana sono ancora peggio, perché hanno sfondato il cranio, questi ragazzi gli hanno fatto di tutto. I drughi in confronto erano proprio all'acqua di rosa. Bene, è la stessa musica, la stessa cosa. Dico no, quindi la nonna di Beethoven è una balla, raccontata d'arte, e deve significare qualcosa. Faccio una ricerca sulla nonna di Beethoven, non lo sapevo come non lo saprà nessuno di voi, probabilmente, ma sapete che la nonna di Beethoven è proprio, infatti, l'inno ufficiale dell'Unione Europea? Eh già. Quindi ci siamo effettivi. Non solo, poi, attenzione, se questo è un rito, se è collegato all'Unione Europea, sui giornali ci deve essere, perché il particolare della cassetta l'ho trovato sugli atti. Sono andato a rivedere i giornali dell'epoca, perché se ho ragione, troverò la notizia sul giornale, messa in un modo chiaramente simbolico. Infatti, sul Corriere della Sera c'è la notizia, titoloni, dopo aver ucciso Fabio Tollis e Chiara Marino, sentivamo l'inno alla gioia. Ecco. Quindi, quindi hanno fatto un rito propiziatorio per l'Unione Europea che entrava. Peraltro anche le date coincidono. Nel 98, anno dell'uccisione di Chiara Marino e Fabio Tollis, infatti, guarda caso, si vota la Costituzione Europea. Nel 2004 hanno... No, è il contrario. Nel 98 si introduce l'euro. Nel 2004, l'anno in cui... No, quando l'hanno creato, non quando l'hanno introdotto, non quando l'hanno introdotto che si è cominciato a circolare, l'hanno creato e hanno detto ok, è pronto, poi dopo è partito qualche anno dopo. Nel 2004, invece, si vota la Costituzione Europea, l'anno in cui nasce la storia del besti satana che va sui giornali. E infatti, l'anno in cui viene votata la Costituzione Europea deve essere l'anno in cui cominciano a darsi le notizie. Le uccisioni cominciano prima, però le notizie vengono date con l'inno alla gioia e quant'altro, a sequenza settimanale, come fanno poi per tutti i delitti, cominciano le notizie e cominciano lo stilicidio. Ogni giorno ti martellano con una nuova cazzata su Michele Misseri, su Sabrina Misseri, su Garlasco, su Mary, eccetera. Un giorno, sì, poi in tutte le trasmissioni, no, vi centellinano i particolari. Oggi Michele Misseri ha detto che il giorno del delitto aveva le scarpe gialle, no, ce l'aveva nere il giorno dopo e così via. E tutte queste sono la sequenza delle notizie che è l'unica cosa che vogliono fare in realtà è bombardare il nostro cervello con queste immagini di morte e perché ci rimangano impresse per una serie di fini che poi magari dopo vedremo. Però questo è l'unico fine. E l'unico fine è celebrare questo rito e far sapere che loro stanno celebrando il rito. Quindi, rito, ripeto, che riguarda l'Unione Europea. Ma a questo punto mi viene anche altri dubbi. se è un rito che per celebrare l'Unione Europea siccome l'Unione Europea molto ha a che fare con l'Apocalisse nel senso che vi spiego dal punto di vista esoterico il 2012 è l'anno in cui si introduce l'Unione Europea in sé è l'epoca della bestia la bestia dell'Apocalisse. Non a caso infatti sapete che nell'Apocalisse che non lo sa ve lo dico nell'Apocalisse c'è la bestia 666 abbiamo poi una donna vestita di sole con una corona di 12 stelle e poi abbiamo questo drago rosso appunto. Allora quante sono le stelle del simbolo dell'euro nella bandiera dell'Unione Europea? 12 che infatti tutti dicono ma perché 12? Perché sono le 12 stelle dell'Apocalisse poi non a caso nominano Mario Draghi oggi alla testa dell'Abissie perché l'Abissie è il vero e proprio drago tra virgolette e ecco che infatti quindi abbiamo il drago rosso dell'Apocalisse e Draghi all'Abissie la bestia è già infatti le bestie di Satana si chiamano non c'era per niente ha fatto una setta assolutamente negli atti non risulta ve l'ho detto che ci fosse un rito che ci fosse un'organizzazione non c'era niente però hanno anche un nome le bestie di Satana perché richiamano la bestia 666 dell'Apocalisse e non a caso infatti tutta l'operazione bestia di Satana parte il 24 gennaio del 2006 se noi facciamo la somma teosofica sommiamo i primi due numeri gli ultimi due numeri diventa 616 616 è il vero numero della bestia perché il 666 è una traslitterazione sbagliata ma in realtà il numero originale pare che fosse 616 quindi 616 e 666 sono i due numeri che identificano il demonio infatti tutta l'operazione parte Andrea Volpe andrà dai carabinieri il 616 e questo e questi sono diciamo alcuni particolari poi non so se avete mai visto sì l'avete tutti una moneta da 1 o 2 euro prendetela un attimo da 2 si vede meglio ecco appunto a proposito dell'1 euro e a proposito della rosa rossa di fiori in fondo per la riuscite c'è la scatola fiori due eventualmente fiori e se poter per entrare l'euro per la nostra serata allora se osservate sul lato adesso io non ce l'ho in mano comunque mi pare di ricordare dove c'è il numero 1 o 2 sul lato ci sono delle linee se voi osservate attentamente ci sono 6 linee 6 stelle 6 linee 6 6 6 chiaro? sì sono 6 sì 6 linee poi sotto ci sono 6 stelle e poi sotto ci sono ancora 6 linee ripeto 6 6 6 questa è la simbologia dell'euro ed è la simbologia che a loro piace tanto allora a quel punto ho detto beh allora c'è un motivo c'è un perché perché viene scelta Rosa Bazzi come omicida anche se non c'entra una minchia nei delitti di erba perché si chiama Rosa perché viene scelta Anna Maria Franzoni e Samuele non per motivi particolari perché questo disgraziato di bambino ha avuto la sfortuna di chiamarsi Samuele la madre ha avuto la disgrazia di chiamarsi Anna Maria e gli è toccato in sorte questo destino allora questi ragazzi perché sono stati scelti questa è una cosa che ancora sto cercando di capire certo è che hanno rifatto l'apocalisse e quindi infatti non a caso viene indicato come capo delle besse di Satana Paolo Leoni allora nell'apocalisse al capitolo 4 si trova infatti che ci sono 4 viventi di cui il capo è il leone e poi ci sono abbiamo un'aquila un orso un uomo e un orso non mi ricordo l'aquila e l'uomo sicuramente l'orso può darsi anche sbaglio eh? il toro ah il toro ecco vai il toro orso insomma stiamo a capire allora infatti dicevo il capo di 4 viventi è il leone e il capo delle besse di Satana è Paolo Leoni poi adesso sto cercando di ricostruire anche gli altri ma non è proprio semplicissimo la simbologia perché dico Nicola Sapone che cazzo c'entra questo questo cognome buffo il motivo c'è ma vabbè sorvoliamo e quindi hanno ricreato tutta una simbologia dietro a tutta la vicenda delle besse di Satana ci sono ancora tante cose dal punto di vista simbolico che devo capire ad esempio perché hanno scelto somma Lombardo ci deve essere qualche motivo esoterico per il primo delitto ci devono essere tanti motivi insomma ma veniamo allora a noi cioè vediamo allora nella pratica che è successo probabilmente ci sto ancora lavorando e ci sto ancora studiando e questo video come gli articoli che farò serviranno anche perché come spesso è capitato magari con l'aiuto di alcuni lettori posso pure ritrovare il bandolo di alcune matasse che non mi sono sempre chiare quello che però mi è chiaro è che cosa hanno fatto a questi ragazzi anzi però prima di dire esattamente questa cosa voglio anche dire un piccolo particolare piccolo Mario Maccione nel 2011 scrive un libro che si chiama L'inferno tra le mani in questo libro racconta la sua storia delle bestse di Satana racconta la cosa che colpisce è questa che lui si è ammazzato lui era sempre presente ma non voleva in tutti i casi lui non voleva non lo stretto insomma un po' di malavoglia insomma si è ucciso ma insomma lui proprio avrebbe dovuto sfuggire a un certo punto ha avuto anche paura di essere ucciso dalle bestse di Satana e quindi ha fatto tutto per liberanza di questi ragazzi quindi lui si scarica un po' la responsabilità addirittura dice che Fabio e Chiara volevano essere uccisi addirittura cioè lui racconta che questi erano praticamente cerca di far capire che insomma non sono così colpevoli questi due ragazzi volevano essere uccisi perché per loro sarebbe stata una liberazione era una libera scelta questa di essere uccisi e loro l'hanno solo aiutati a uccidersi insomma racconta delle cose assurde dopo aver ucciso per il fatto essersi strafatto di Chiodoroca eccetera oggi dice lui sono finalmente guarito oggi infatti mi sono reso conto di tante cose che ho fatto insomma oggi sono pronto per rientrare nella società oggi sono il ragionier Mario Maccione dice con orgoglio e quindi mi sento ho capito tante cose ho capito che la Chiesa è nata per il bene dell'umanità ho capito che ho fatto del male a tante persone e voglio essere integrato nella vita essere una persona normale ora se voi vedete questa è esattamente la storia di Arancia Meccanica è esattamente quello che Stanley Kubrick diceva in Arancia Meccanica non a caso Stanley Kubrick su quel film nella locandina ha la piramide massonica e la simbologia massonica cioè fa capire attenzione questa è la massoneria questo è il sistema in cui viviamo ci sono questi trucchi che uccidono a un certo punto il capo di questi viene messo in galera e gli dicono senti sostanzialmente vuoi essere rieducato ti rieduchiamo noi con dei sistemi e a quel punto puoi uscire prima e lui dice sì accetto la cura lo sottopongono a un lavaggio del cervello esce dal carcere e quando uno vede il film quasi quasi rimpiange quello che era dice ma forse stai meglio prima perché vive una vita d'inferno non riesce più a reagire di fronte alle ingiustizie lo picchiano lo lasciano quasi ammazzato non solo c'è una scena molto importante nell'arancia meccanica l'ho capita dopo anni i suoi ex compagni i drughi lo trovano sono diventati poliziotti nel frattempo e lo prendono e lo massacrano è la metafora della realtà di adesso non di tutta la polizia e di tutti i rabbinieri per carino perché la maggior parte sono ancora bravi persone per fortuna la maggior parte non lo so diciamo una metà in metà ci sono tante persone che purtroppo hanno le mani legate dal sistema in cui stanno e poi ci sono però una gran parte di poliziotti e carabinieri che fanno quello che facevano i drughi cioè sono degli assassini e non sono quindi le bestse di satan gli assassini sono questi che fanno questo lavoro ricordatevi la mudo bianca ricordiamo la storia del generale Ganser processato a Brescia per traffico di droga e così via quindi c'è questa cosa particolare in questo film di questi drughi che diventano poliziotti lui è inerme non reagisce e poi va bene alla fine nell'ultima scena del film si vede che sostanzialmente questo torna come era prima in pratica questa è la storia di come il sistema prima ti costringe perché si capisce chiaramente che comunque questi ragazzi sono vittima della società sono dei delinquenti perché la società li ha resi tali e non ha fatto nulla per ricoperarli poi dopo in galera gli hanno fatto un altro lavaggio del cervello e l'hanno resi non si sa se è meglio o peggio di prima e questo è quello che hanno fatto a Mario Macione ed è palese proprio il collegamento con l'arancia meccanica sembra quasi di vedere appunto il film lui che prima era in un modo era un ribelle era uno che comunque era fuori dalla società che ha fatto quello che ha fatto ma perché questa sorpresa rifiutava questa società non riusciva a integrarsi poi dopo gli hanno fatto il lavaggio del cervello e adesso è ben reintegrata adesso è il ragioniere Mario Macione perché sapete tutti che essere ragionieri è una cosa bellissima nella vita e proprio lo scopo di ciascuno è quello scusate la battuta che magari qualcuno non la capisce però facevo dell'ironia sul sistema in cui viviamo dove la felicità è altro che essere ragionieri avvocati o altri quindi diciamo ecco c'è questa particolarità e una cosa mi colpisce di questo libro sapete cosa? che se io lo leggo a pelle il ragazzo mi sembra pure sincero se uno lo legge dice questo ha raccontato un sacco di balli però guardate io a pelle quando lo leggevo all'inizio dicevo ma questo guarda che sembra sincero ma sembra convinto quando dice non quando dice che la chiesa è nata per il bene dell'umanità o quando dice che ormai era integrato nella società per carità quello si capisce che è una farsa ma quando racconta la storia dei delitti quando racconta che lui non c'entra niente quasi sembra quasi sembra sincero lo percepisco come sincero allora faccio una domanda un amico di questo gruppo un amico che non è stato coinvolto cioè conosceva alcune persone di questo gruppo e si è voluto occupare si chiama Roberto si è voluto occupare della vicenda di questi ragazzi raccogliendo prove raccogliendo testimonianze cercando di scrivere un libro per portare un'altra verità rispetto a quello che i media hanno portato allora domando a questo Roberto dico senti Roberto ma tu che hai parlato con Nicola Sapone e con la sorella che cosa raccontano della notte dopo il delitto dice guarda mi dice più o meno mi scrive via mail guarda più o meno raccontano lui lo racconta che non si ricorda nulla la sorella dice che il fratello era normale e io gli ho detto senti adesso ti faccio una domanda che per me è molto importante anche se tu non ne capirai il senso lì per lì però dico rispondimi attentamente secondo te Sapone è sincero quando dice che non si ricorda a pelle, a sensazione perché certo sappiamo che dalle prove processuali che hanno portato da quello che ci ha raccontato è una cazzata lui c'era e si scarica così dice che non sa nulla ma in realtà se tu andassi a sensazione la sensazione è sincero dici guarda la sensazione sì sembra sincero certo però non è molto credibile come versione anche Macciore a me mi sembra sincero allora il punto è questo anche i coniugi di erba sembrano sinceri ma non sono stati loro anche la tipa nel diritto di Viterbo sembra sincera ma non è stata lei e così via sapete che cosa fanno? prima di dirvelo prima di dirvi che cosa fanno e che cosa succede in questi delitti la prendo un po' alla larga vi ricordate negli anni 80 90 c'era un sistema che si chiama Mnemosis che lo compravate al prezzo di 3-4 stipendi medi e vi aiutava a ricordare le cose perché vi metteva delle memorie nel cervello che voi avevate pre-programmato prima quindi ad esempio dovevate imparare una lezione per il giorno dopo andavate a letto programmavate questa cosa questo apparecchio che vi inviava dei messaggi subliminali e voi il domani vi alzavate e sapevate la lezione una mia amica lo comprò e mi disse però il problema di questo apparecchio qual era? a parte il costo costava abbastanza il problema era che è vero funzionava ti metteva delle memorie e tu ti ricordavi delle cose il problema è che te le ricordavi a memoria ma senza una rielaborazione critica quindi che succedeva? punto primo non è che tu dormivi ti alzavi e sapevi la lezione il problema è che nel frattempo il cervello aveva lavorato quindi ti alzavi e eri stanco come se avessi studiato allora uno dice tant'è che studio invece che dormire punto primo punto secondo non andava bene per tutte le facoltà che poi sono la maggior parte o per tutte le scuole in cui comunque poi dovevi fare delle risposte al ragionamento ad esempio in diritto nella mia materia tu forse ti vuoi imparare a memoria tutte le norme si poi ti dicono scusa ma che significa questo? boh e non lo sai perché lo sai solo a memoria all'epoca mi pare costava tipo un milione e mezzo due milioni questo apparecchio insomma con due milioni voi potevate comprare un apparecchio che vi metteva delle cose nella testa che era di libera vendita e lo poteva comprare chiunque voi potete immaginare cosa possono fare in un ospedale psichiatrico o in determinati centri specializzati con una persona a cui vogliono immettere delle memorie possono immettergli quello che vogliono e possono anche cancellargli allora questo hanno fatto a quei ragazzi gli hanno immesso delle memorie questo hanno fatto a erba questo fanno sempre non è che l'hanno fatto solo qua lo fanno continuamente e infatti da che cosa si riconosce che è una memoria indotta ci sono diversi indici primo se ci sono due versioni quindi ad esempio nel caso di maccione e di volpe nel caso dei due ragazzi sono due versioni che coincidono su alcuni particolari ma su altri sono completamente discordanti perché? perché quando viene immessa una memoria nel cervello della persona la memoria c'è ma tutto ciò che non viene immesso la persona risponderà lo stesso avrà ugualmente una percezione di quel particolare ma diverso dall'altro faccio un esempio se adesso noi siamo qua non lo so diciamo 150 persone bene a 150 persone io immetto immettiamo nel cervello la memoria che io adesso ho cominciato a ballare nudo qua sopra e non è vero poi fra qualche mese qualcuno dirà ma Franceschetti ha ballato nudo là sopra? sì ah ecco che occhiali aveva? ma gli occhiali non sono stati immessi allora uno dirà rossi un altro dirà gialli un altro dirà verdi poi qualcuno dirà ma quanto è durato il ballo? a quel punto se non è stata immessa questa memoria uno dirà 5 minuti un altro dirà mezz'ora un altro dirà due eccetera a seconda della percezione soggettiva ecco perché Maccione infatti descrive gli omicidi e dice ma io non c'entravo io non volevo io anzi poi ero strafatto di droga non mi ricordo lui cerca di rimuovere ecco perché poi forse forse tutte e due dicono eravamo in tre l'unico che se ne è stato zitto perché non ricordava niente e si è beccato l'accusa di essere il più crudele quello che era il Tecno che gli sgozzava che addirittura uno che ancora era vivo gli ha messo un riccio in bocca per farlo stare zitto e poi l'ha finito a colpi di mazza sulla testa se non ricordo male perché perché nessuno di questi aveva regge la coscienza che aveva fatto una cosa del genere allora doveva essere un altro infatti l'unico che è stato zitto che gli dicono ma tu ti ricordi ma io non mi ricordo niente dice questo qua non rimane un po' così e sì se sono memorie indotte probabilmente è questa è la questa è la situazione questi ragazzi probabilmente non sono mai andati in quel bosco non hanno mai fatto quello che è successo questa è la realtà di tanti amici italiani quasi tutti quelli no tutti quelli che vanno in tv e molti di quelli che non ci andranno mai posso chiedere ma queste memorie come vengono indotte? le memorie possono essere indotte in in vari modi ci sono degli apparecchi specifici che come questo mnemosis che inviava sostanzialmente cos'era questo era solo per pochi quindi non potevano permettersi di compilarlo sì però noi immaginiamoci un servizio segreto un ospedale che lavora al soldo di servizi segreti e di agenzie governative eccetera che cosa può fare con apparecchi più specifici quindi sono non so come si definiscono in gergo tecnico Rosa Bazzi che mi sembrava una persona semplicissima come hanno potuto prenderla e dare questa memorie? allora anzitutto bisogna vedere caso per caso in questo caso ho riconosciuto il problema delle memorie indotte talvolta tu puoi pagare la persona per confessare in altri casi puoi dirgli guarda che se tanto sei spacciato tanto tu sei condannato all'orgastro se parli ti diamo meno e allora quello parla quindi ci sono vari modi per indurre una persona nel caso di Rosa e Olindo ho letto solo alcune cose mi sembra anche quello un caso di induzione forzata e non un caso di minaccia perché perché quello che mi ha colpito è che anche lì loro sanno dei particolari che solo l'assassino poteva sapere però è anche vero che ciascuno dei due attribuisce a sé la propria responsabilità però e questo perché sì perché come dicono i giornali loro si amavano quindi ciascuno non vuole colpevolizzare l'altro ma anche perché proprio perché si amavano avevano questo rapporto particolare tra di loro cioè sì ognuno dei due se lo attribuisce a sé stesso insomma ecco quindi questa è la possibile spiegazione poi in ogni caso bisognerebbe andare a vedere nel caso di beh poi incogne se c'è una memoria è una cancellazione della memoria e non un e non un'induzione perché lei non ricorda niente ma secondo me non era quello il problema perché ripeto anche lei non aveva una goccia di sangue addosso ed è un buco temporale che riscontrava in tutti i delitti di questo tipo tutti senza nessun escluso e lei era depressa stava seguendo le cure le depressione tutte queste persone sono sempre sotto psicofarmaci sotto droghe o in cure da psichiatri talvolta in alcuni delitti ho riscontrato addirittura gli stessi psichiatri pure a distanza di centinaia di chilometri quindi sono sempre loro sostanzialmente e perché poi le persone che fanno queste cose sono anche abbastanza poche sono sempre gli stessi criminologi in tv perché? perché dopo un po' uno lo scopre cioè questa è una cosa talmente banale che alla fine si scopre quindi non puoi cambiare continuamente il criminologo devono essere sempre gli stessi disposti a dire sempre le stesse cose sono spesso sempre gli stessi avvocati sì anche se poi questo spesso neanche ce lo dicono tanto perché alcuni aspetti perché sennò la gente capisce ma a volte abbiamo visto che ad esempio l'avvocato Biscotti sta al delitto Meredith al delitto di Avetrana al delitto al caso Marrazzo e passa insomma questo lo sappiamo ma non sappiamo che però ci sono molti altri nomi che ricorrono e che questo avvocato è in molti altri delitti che magari non fanno così scalpore però comunque sono sempre la stessa organizzazione sempre con la stessa modalità dove trovo tutti i soldi con le altre avvocati di lui questa gente questa è una ah no ah no capito che hai detto certo l'altra domanda è dove trova si diceva Fiorenzo giustamente dove trova la famiglia Scazzi i soldi per pagare gli avvocati miglioritari in effetti quasi tutti questi dichiareranno di lavorare gratis perché in gran parte è vero anche Taormina diceva di lavorare gratis per la Fransone e sicuramente è vero perché hanno diciamo la loro paga è altro quindi sì nella maggior parte ma poi non solo ma anche lo staff di periti i criminologi cioè Pacciani hanno staff di periti i criminologi cioè ci potevi mantenere 25 famiglie per 50 anni con quanto aveva speso solo di periti e avvocati quindi ne aveva presi 5, 6, 7 adesso non ricordo solo di criminologi che gli hanno fatto le perizie infatti la realtà è ben diversa io da avvocato so perfettamente qual è la realtà so che la vittima non c'ha mai una lira e quando devi fare una perizia gli dici ma chi te la fa se te la devi fare seriamente e spesso invece quei criminologi che poi sono sempre gli stessi a gestire questi forse la farebbero pure ma è ovvio che visto che non sono in grado di accorgersi di questi buchi temporali col sangue eccetera quantomeno non sono molto attendibili sulla ricostruzione della dinamica dei delitti quantomeno e quindi non si possono chiamare e allora spesso non c'hai una lira per poter operare per poter fare delle indagini per poter fare qualcosa ad esempio nel caso di questi ragazzi bisognerebbe assoltare dei bravi investigatori privati per fare una serie di analisi se lo faccio io come lo sto facendo lo faccio a parte che ha spese mie ma poi ho tempo mio perché devo lavorare per campare quindi facendo altre cose poi quando ho un sabato domenica libero vado a Somma Lombardo se qualcuno mi porta e che non è semplice quindi ci andrò poi sul luogo del delitto a vedere esattamente perché si scoprono sempre altre cose una volta che uno va là ma e capisce delle cose che non capisce solamente i racconti e spesso vedendo il luogo del delitto che capisce che hanno raccontato cazzate perché per una serie di cose che rende incompatibile diciamo la la ricostruzione operata con con la dinamica dei fatti ad esempio come ho detto nei delitti del mostro di Firenze basta andare su luoghi del delitto per capire che ci hanno preso per il culo perché non è possibile che il serial killer uccida a 500 metri dalla casa del giudice che fa le indagini quindi qualcosa non va in mezzo alla strada per giunta quindi è proprio una cosa che non sta in piedi e quindi in altri casi quando sono andato sul luogo del delitto ho visto che in effetti cambiava tutta la percezione della realtà che uno aveva e dice ok non è possibile che hanno fatto quello che hanno fatto e ora il problema però qual è di questi delitti questa è una cosa di cui purtroppo dolorosamente ne sto accorgendo da poco anzi me ne ero accorto infatti che volevo fare a dicembre volevo cancellarmi dall'albo degli avvocati perché non ce la facevo più ce l'ho detto va bene ma è inutile comunque è un fenomeno che non si può combattere peraltro spesso le vittime stesse di questi delitti non capiscono la realtà e non la vogliono capire quindi tu vai anche a parlare con i familiari delle vittime ma non capiscono queste cose non vogliono capirle spesso e rimangono fermi ancorati nella loro realtà e quindi visto che la cosa è così dentro di me ho detto vabbè mi cancello quando è arrivato uno di questi ragazzi per vederlo l'unica cosa che posso fare è stare in carcere ho detto va bene rimango iscritto all'albo e quindi rimarrò ancora anche perché devo dire che per la prima volta mi trovo una persona vittima in qualche modo di questo sistema che ha deciso di capire perché nella maggior parte dei casi le persone non vogliono capire e questo è il problema più importante vi voglio raccontare alcuni episodi per farvi capire che tipo di situazione abbiamo allora mi è capitato le prime volte che mi occupavo di questi delitti quando scoprivo qualcosa di importante su un delitto ho fatto l'errore che poi ho imparato a non rifare mai più di telefonare ai familiari e dire guardi io ho delle notizie importanti non sia male tipico per paranoico per uno che vuole farsi pubblicità per uno che chissà quanti soldi gli chiederà per esempio una volta scoprendo una cosa banale di Pantani che il giorno del delitto corrispondeva al numero 13 della morte che era morto all'hotel Le Rose che avevano alterato le perizie che c'era una serie di incongruenze ho detto ok qui c'è appunto la rosa rossa ho provato a contattare la famiglia Pantani non dico non è che avrebbero dovuto dirmi grazie ma proprio mi hanno trattato come se fossi un buono non so neanche comunque sono rimasto un po' stupito una volta una mia amica mi ha dato il numero di alcuni familiari della famiglia Gaetano Rino Gaetano morto in circostanza assoluta anomale io vado spesso ho scritto articoli vado in giro per l'Italia a dire che era un eroe questo Rino Gaetano perché nelle sue canzoni metteva scriveva della rosa rossa diceva la denunciava diciamo così è morto per questo quindi sostanzialmente sto dicendo dico che è un eroe bene alcuni familiari mi hanno detto che io mi hanno riportato e io faccio schifo perché non lo so perché io non è che ho mai guadagnato una lira da questa storia di Rino Gaetano non mi faccio pagare per venire qua Fiorenzo sa che si mi ha pagato l'albergo ma il viaggio me lo pago io e l'altra volta pure quindi non si capisce qual è il vantaggio di queste cose oltre a essere preso per matto per visionario oltre ad avere una serie di circostanze nella mia vita che non è che sono del tutto piacevoli quindi comunque sono io che faccio schifo quindi non il sistema non la gente che ha ammazzato non chi occulta i delitti no io vabbè e poi il problema è far capire adesso quindi dopo due episodi tre non vado più quando scopro qualcosa da un familiare perché dicono ho già dato io del resto ho un sito se qualcuno vuole delle informazioni scrive come ha fatto questo ragazzo che mi ha scritto e mi ha detto ecco io vorrei capire e allora sì allora è la prima volta che mi capito una persona che dice voglio capire io ho chiesto ma sei disposto a rivedere tutto quello che pensi di te del ruolo nella tua vicenda perché non è bello pensare di essere inserito in un meccanismo del genere essere strumentalizzato perché ti chiami in un modo o in un altro perché perché ci sono perché sembra una follia no? d'altronde l'alternativa è pensare che un pubblico ministero si sia impazzito e non riesca a vedere le prove i giudici si siano impazziti e abbiano condannato dei ragazzi innocenti con delle prove palesemente farlocche poi un appello abbia considerato e poi ci sono tutti i criminologi giornalisti che non vogliono assolutamente vedere la realtà infatti questo Roberto questo ragazzo che ha raccolto le prove a favore dell'innocenza di questi ragazzi mi dice quando contatto un giornalista li presi dicono interessati e poi scompaiono tuttavia io non riesco a far capire neanche a questo ragazzo che c'è qualcosa di diverso perché che succede che le persone che sono coinvolte in questa cosa sono talmente ancorate alla vecchia realtà quella che ti danno i giornali quella che ti danno i mass media quella che ti hanno raccontato tutti gli esperti che io continuo a parlare con questo ragazzo Roberto e gli dico Roberto ma non ti sembra che ci sia qualcosa di senso e lui continua a giustificare la sua realtà preconcetta gli dico del sangue gli dice ma forse avranno messo delle coperte in macchina sì ma queste coperte se le hanno messe magari però le avranno dovute lavare poi non è che basta mettere delle coperte perché c'è il volante però pur di giustificare l'immagine cioè la versione che hanno dato alcune versioni che hanno dato ufficialmente i tribunali eccetera continuano ad essere ancorati su questo la stessa madre di uno dei ragazzi arrestati fa fatica a credere a queste cose che gli dico eppure sono cose che vanno a favore di suo figlio addirittura e poi dice ma come ma ha confessato sono stati sicuramente loro è difficile però il problema è che uno quando si trova di fronte a una realtà del genere perlomeno dovrebbe ascoltare poi la madre di questo ragazzo ha fiducia nel figlio alla fine dice senta avvocato io non è che la capisco molto però comunque ho fiducia in lei tanto poi non è che ha molta scelta comunque figlio all'ergastolo quindi insomma non è che ci sono si può scegliere tra molte versioni diverse allora però voglio raccontare un po' di episodi diciamo che sempre fanno capire com'è la mentalità dietro a queste vicende uno dei fatti che più mi ha colpito no anzi prima parlerò vabbè adesso vado all'impronta allora sì un magistrato del Tribunale di Roma Paolo Ferraro che cosa fa ha prove si procura delle prove dell'esistenza di una setta satanica in ambito militare fa denuncia ai colleghi i colleghi della stanza accanto tempo pochi giorni si ritrova destituito per l'infermità mentale perché il satanismo è un fenomeno che non si può toccare se poi dici che il satanismo sta in ambiente militare ma per carità Salvatore Parolisi affiliato al Tempio di Sette è un militare ma lo si scopre adesso però forse è l'unico no dovrebbero essere tanti probabilmente ma vabbè comunque lo testi di scopere infermità mentale inizialmente è un po' non capisce e allora che cosa si fa si fa difendere e si fa fare delle perizie da alcuni personaggi che compaiono spesso in televisione a fare le perizie ovviamente questo si traduce in un boomerang nei suoi confronti questo è chiaro gli dico ci parlo mi chiede dei consigli gli do delle consulenze gli dico Paolo devi secondo me tu hai toccato un tasto che non si può toccare non lo può toccare nessuno chi lo tocca in genere muore tu sei fortunato ad essere ancora vivo per una serie di circostanze queste circostanze sono ad esempio Forza Nuova un movimento politico che gli ha fatto delle conferenze che l'hanno appoggiato politicamente hanno fatto delle manifestazioni in suo favore era pronto per essere ucciso perché l'avevano destituto per infermità mentale dopo qualche settimana l'avrebbero sicuramente trovato ucciso e avrebbero detto che si era impiccato suicidato questa è la prassi in questi casi è stato suicidato è stato suicidato sarebbe stato suicidato si è salvato io ho detto Paolo ti sei salvato ma non ti salverai il posto dopo la destituzione per quattro mesi ti siluriranno dalla magistratura quindi dimettiti no non si vuole dimettere ha continuato persegue comunque sul terreno giudiziario la sua battaglia che perderà perché sul terreno giudiziario è perdente la cosa che mi ha più colpito questo stiamo parlando di un magistrato penale che ha fatto indagini serie che sono andate a finire addirittura in diciamo sono state un'inchiesta sul doping famosa che è andata su tutti i giornali quindi è uno poi che non si ferma davanti a niente uno che è coraggioso che non ha paura e io ho detto Paolo prima di affrontare questi fenomeni devi studiarli sono fenomeni complessi devi capire come agiscono non ho tempo non ha tempo per studiare il fenomeno che l'ha distrutto a me questa è una cosa che mi sembra veramente allucinante l'altra cosa che mi ha colpito tanto in questo mio percorso di vita mi perdonerà Salvatore se mi sente perché è una persona a cui sento proprio di voler bene però questa cosa che penso la penso e la dico come gliel'ho detto a lui Salvatore Borsellino il fratello del magistrato ucciso gli ho detto Salvatore forse dovresti approfondire la massoneria i rapporti con la massoneria da tante cose c'è un simbolismo di tra la morte del fratello che poi ho approfondito da qualche da relativamente in tempi recenti che non ha mai voluto neanche sapere ha detto no 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 non ho tempo per approfondire queste cose ma come come non hai tempo ti hanno ammazzato il fratello va in giro per l'Italia a fare conferenze e convegni non ha tempo allora di fronte a questi fenomeni io avevo detto basta cedo il campo e mi ritiro infatti qual è la domanda che si è fatta a lei perché non hanno tempo queste persone perché purtroppo si tratta di rivedere tutta la concezione della realtà che noi abbiamo e le persone non hanno voglia preferiscono continuare a dire Salvatore Borsegno preferisce continuare a dire hanno ucciso mio fratello Mancino ha mentito sul mio fratello le indagini sono state fatte male queste sempre le solite cose senza capire quello che c'è di più che potrebbe diffondere potrebbe aiutare molte persone a capire di più e anche a evitare certi fenomeni la cosa diciamo se uno mi chiede a me perché faccio questo lavoro l'ho fatto prima di tutto per me stesso per capire perché mi volevo far secco ho dovuto capire anni fa che cazzo c'era scusate che c'era dietro perché c'era una logica particolare dietro a certi eventi che mi avevano colpito dietro attentati alla mia vita ho dovuto capire chi mi voleva del male e perché con che logica perché capivo che non era una logica comune non erano dei criminali a strapazzo e li ho studiati e li ho approfonditi e poi col mio lavoro da avvocato salvo altre persone uno dei momenti più belli di quest'anno probabilmente è stato quando questo ragazzo Paolo Leone scrivendomi mi ha detto prima di tutto mi ha detto appunto voglio voglio capire e voglio che mi aiuti a capire e poi mi ha detto Paolo sono sette anni che aspettavo qualcuno come te perché sono sette anni che io voglio capire e adesso comincio a capire e sentire la voce della madre felice felice beh un termine un po' grosso di fronte a una vicenda del genere però diciamo più serena contenta che il figlio ha avuto comunque una nota di speranza pur dal carcere ecco per questo lo faccio e lo faccio per salvare vite umane se posso non posso tante però Paolo Ferraro forse insieme ad altri con il movimento forza nuova forse gli abbiamo salvato la vita non vuole seguire alcuni consigli che sono sicuro siano buoni e che appunto quello di dimettersi dalla magistratura prima che lo dimettano loro prima che dicano che è lui che deve andarsene e fare l'avvocato e non aspettare che lo buttino fuori a calci in culo per poi che tutti dicano questo è il magistrato che hanno buttato fuori per l'infermità mentale ma questa cosa non la vuole capire però comunque tante situazioni in questi anni poche non tante poche situazioni siamo riusciti a salvarle a intervenire a spiegare non si può fare molto ma spesso si può evitare dei guai a una persona si può dargli la speranza comunque capendo quello che c'è attorno spesso riesce a muoverti meglio quindi queste persone dicevo perché lo fanno perché non vogliono fare la fatica di andare in una realtà completamente diversa di capirne la logica e questo comporta il fatto che si dovrebbero mettere in discussione da una ora e tempo e rivoluzionare tutta la loro vita certo perché dovrebbero mettere in discussione tutta la loro vita e tutto il loro credo però è anche vero che in alcuni casi ad esempio Salvatore Borsellino io sono convinto che lui non pensi che sia matto semplicemente pensa che non vuole approfondire Paolo Ferraro sa perfettamente che non sono matto e che ne so più di lui di vermi in queste cose proprio non vuole non vuole e invece purtroppo questo fenomeno potrebbe essere sconfitto tra virgolette a livello giudiziario solo quando ci fossero tante persone che ne sono consapevoli e si cominciasse a fare formazione anche nelle scuole di polizia dei carabinieri eccetera per far conoscere questo fenomeno è ovvio che purtroppo siccome questi fenomeni sono creati dalle persone che manovrano questi fenomeni questo non avverrà mai per lo meno per un po' di tempo però questo è l'unico modo in futuro per poterli sconfiggere eppure non lo vuole fare nessuno un'altra cosa che mi ha molto colpito e che vi voglio raccontare relativamente sempre alle bestie di Satana c'è una signora una donna a cui hanno ucciso il figlio Doriano Molla e lei da anni si batte perché venga riconosciuto che è un omicidio e perché si facciano delle indagini ma non è sempre archiviato il figlio è stato trovato l'hanno dichiarato suicida è stato trovato disteso per terra con un filo elettrico legato al collo io ho sentito questa donna parlare a una trasmissione radio sono andato molto a istinto e ho detto va bene questa mi sembra una persona che la verità la vuole cercare in questo caso forse unendo le forze visto che lei dice che il figlio è stato ucciso dalle bestie di Satana uniamo le forze forse si può capire di più certo sapevo che mi scontravo su un terreno minato però ci ho provato ci ho provato questa volta devo dire egoisticamente perché era nel mio interesse oltre che nel suo secondo me ma purtroppo se era solo per l'altro non lo faccio perché l'altra persona non ci crede che lo faccio solo per il suo interesse nel mio perché mi servirebbe a capire anche a me io ho detto signora allora io mi sto occupando di questa vicenda sarebbe nell'interesse comune cercare di capire la verità e perché secondo me questi ragazzi non c'entrano ah allora avvocato siamo su due posizioni diverse non possiamo mai andare d'accordo di capire me l'aspettavo questa cosa e gli dico sì signora però vede io non devo difendere Paolo Leoni Marco Zampollo Eros Monterosso io voglio cercare la verità se scopro che questi ragazzi mi stanno mentendo non li difenderò io cerco la verità indipendentemente da chi mi dà mandato per cercarla e quindi penso che sì ma scusi come fa a dire che questi ragazzi non c'entrano l'hanno accertato dei giudici in sentenze quindi prima cosa che a me mi ha lasciato un po' sorpreso ma come ti stai battendo contro la giustizia che non funziona ti archiviano continuamente il caso di tuo figlio e non vogliono ammettere che è un omicidio quindi sostanzialmente non stanno vedendo delle prove però dei giudici hanno detto che questi ragazzi sono colpevoli e per te sono colpevoli va bene allora io ho detto signora senta scusi ho provato a farla ragionare io ho detto signora ma hanno occultato delle prove nei confronti non le vogliono vedere è evidente mi sembra che sia evidente che queste prove non vengono considerate giusto? beh sì bene il magistrato chi è il magistrato che ha archiviato? sapete chi è? lo stesso che ha incastrato le bestie di satana però gli archivia di là ma io ho detto scusi signora ma ma non le sembra un po' illogico che il magistrato il dottor Pizzi il quale ha fatto le indagini sulle bestie di satana e li ha sbattuti dentro quando lei gli porta suo figlio che è stato ucciso dalle bestie di satana non vuole indagare a fronte delle evidenze ma per coprire chi? le bestie di satana? forse vorrà coprire qualcun altro e questo qualcun altro è libero e questo qualcun altro non sono le bestie di satana perché se no starebbe dentro ci farebbe più bella figura a fare un'indagine e fare il collegamento con un altro delitto peraltro questi si beccherebbero pure in alto il gastolo e dico signora dice beh si investa così effettivamente e anzi che qui ho trovato una donna più intelligente della media che è disposta prima ad ascoltarmi cosa che non è disposta in genere nessuno e poi anche a rivedere parzialmente delle cose infatti alla fine della conversazione abbiamo detto ci rivedremo cosa che invece io davo non proprio che scontato ho detto mi do un 20% di probabilità che questa persona mi voglia vedere perché normalmente le persone fuggono da questa realtà siccome ho riconosciuto in questa donna la volontà prevalente di capire la verità sulla morte di suo figlio ho detto se prevare veramente questa voglia andrà fino in fondo anche a costo di trovarsi davanti uno che vuole solo difendere questi cattivi delle bestie di Satana però comunque affronterà il rischio perché non c'è niente da perdere comunque tu ascolti una realtà diversa e senti questa mi sembrava abbastanza risposta tuttavia non è facile far capire la realtà a queste persone non è facile farla capire ai miei colleghi non è facile farla capire a molti magistrati infatti il problema di questi delitti è che l'80% degli avvocati e dei magistrati che stanno dentro a questo sistema forse sono anche in buona fede cioè molti dei giudici che hanno condannato le bestie di Satana si sono lasciati influenzare si sono lasciati condizionare non sono dei geni dell'investigazione perché poi diciamocela tutta noi avvocati e magistrati spesso facciamo tutt'altro un bel giorno ci troviamo un delitto peraltro con delle cose così fantascientifiche che manco i romanzi gialli io non l'ho mai letto veramente ma comunque anche se uno avesse esperienza dei romanzi gialli si trova di fronte a una realtà completamente differente e non riesce a decrittarla e quindi spesso che cosa succede? che si aggrappa all'unica evidenza ok Volpe ha confessato ha fatto trovare i cadaveri è stato Volpe e questa è l'unica realtà possibile a cui si aggrappa è un'altra Grazie.